voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa amiche amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arcieri abbiamo il piacere dei veri studio del roberto asta vicario generale della diocesi di ragusa con lui parleremo di eucaristomen la terza lettera pastorale del nostro vescovo monsignor giuseppe la placa rivolta ai presbiteri e diffusa lo scorso 28 marzo al termine della messa del crisma bentrovato padre roberto bentrovati a tutti voi un saluto ai radioascoltatori alle radioascoltatrici eucaristomen ricorda il nostro vescovo nella lettera per un sacerdote significa ringraziare dio per il dono della vocazione sacerdotale come dovrebbe manifestare questa dimensione un sacerdote in ogni ambito della propria vita del suo ministero sacerdotale c'è da dire che il nostro vescovo ogni anno ci offre una lettera pastorale la sua prima lettera pastorale è stata nel 2022 è stata indirizzata ai presbiteri la seconda alla comunità cristiana e questa terza è ancora rivolta ai presbiteri lui parte dalla comune esperienza che facciamo il giovedì santo quando il vescovo con tutti i sacerdoti fanno il memoriale dell'istituzione della eucaristia e nello stesso tempo il ricordo anche della istituzione del sacerdozio ministeriale rinnoviamo le promesse sacerdotali al servizio di cristo e della chiesa e rinnoviamo anche il nostro desiderio di vivere la comunione fraterna tra noi e nella comunità cristiana ebbene il vescovo si rivolge ai sacerdoti perché vuole aiutarli a riflettere su alcune dimensioni molto importanti della nostra vita presbiterale innanzitutto l'essere eletti e radicati in cristo e dobbiamo sentire che noi siamo stati scelti per amore dal signore non per i nostri meriti ma perché il signore ci ha guardati e ci ha chiamati a far parte dei suoi amici e per questa ragione noi diventiamo non solo scelti per amore ma dobbiamo diventare preti per amore da qui il nostro ringraziamento al signore perché se immeritatamente siamo diventati ministri del signore e perché signore ha avuto misericordia di noi quindi eucaristomene significa rendimento di grazie e il nostro perenne grazie perché il signore ci ha annoverati fra coloro che sono i suoi amici più vicini ed è un rendimento di grazie dice il vescovo nella sua lettera che noi dobbiamo elevare con la nostra stessa vita naturalmente questo essere accomunati vescovo e sacerdoti da questa intima comunione sacramentale è dovuta al fatto che tutti partecipiamo del sacerdozio di cristo e questa partecipazione alla consagrazione alla missione di cristo ci fa diventare un'unica cosa con gesù da qui l'invito del vescovo a fissare lo sguardo su gesù che è l'apostolo e il sommo sacerdote della fede fissare lo sguardo è un termine che il vescovo prende dalla lettera agli ebrei e che rilancia dicendo che fissare lo sguardo significa attivare una conoscenza intima profonda del signore che non deve mai interrompersi perché essere in relazione con il signore significa stare dinanzi a lui non solo aver detto di sì ma ripetere questo sì ogni giorno lì dove il signore ci manda per fare in modo che il nostro sì sia al suo amore siamo stati amati da lui immeritatamente dobbiamo rispondere con il nostro eccomi con la nostra disponibilità innanzitutto a stare dinanzi a lui ad approfondire l'amicizia e l'amore del signore e poi a vivere di quest'amore nei riguardi degli altri quali sono gli stimoli principali che il nostro vescovo dunque ha voluto dare ai sacerdoti attraverso questa lettera il nostro vescovo ci dice che per rimanere dinanzi al signore in comunione con il signore dobbiamo fare della preghiera il nostro lavoro non può prescindere dall'intima relazione con il signore dice il nostro vescovo giuseppe l'essere preti essere preti innanzitutto significa stare dinanzi al signore prima che fare qualcosa per il signore e quindi questo stare dinanzi al signore significa che dobbiamo sviluppare quella linea contemplativa che si sviluppa in una preghiera continua rivolta al signore lo stare con il signore ci fa essere dice il nostro vescovo sacerdoti innestati in cristo non è semplicemente essere con lui significa essere in lui il vescovo in particolare fa tutta una riflessione molto bella quando sviluppa il tema di essere sacerdoti che agiscono in persona cristi una riflessione molto bella sul senso della nostra partecipazione alla celebrazione eucaristica e sul senso anche della nostra missione del nostro ruolo lui dice che il sacerdote si identifica durante la celebrazione dell'eucaristia con il sacerdote sommo ed eterno che è gesù e in forza del sacramento dell'ordine rinnoviamo l'unico sacrificio della croce il sacrificio di cristo rimanendo in contatto con la dimensione del sacro e agendo in persona cristi sono le parole che il vescovo scrive a pagina 11 della sua lettera questa celebrazione mostra soprattutto l'unicità del sacrificio della croce che è reso sacramentalmente presente sugli altari cioè è reso presente lo stesso cristo che è offerente e offerta sull'altare questa relazione intima con il signore è una relazione intima che passa attraverso la celebrazione dell'eucaristia questa celebrazione ha due aspetti innanzitutto un primo vantaggio è a vantaggio dei sacerdoti che celebrano e poi a vantaggio di tutto il popolo di dio che partecipa al sacrificio eucaristico quindi è un memoriale quello che noi celebriamo per incontrare il signore gesù e dice in un passaggio molto bello incontrare il signore gesù che è sostanziale amore che trasforma tutto che dona senso a tutto che ce eleva dalle nostre miserie e ci consegna la grave responsabilità di agire nella sua persona ecco allora siamo invitati ad abitare in dio e a essere abitati da dio e quindi sperimentiamo la bellezza la gioia dell'incontro sacramentale con cristo nell'eucaristia e se questo incontro dice il vescovo venisse meno nulla del nostro essere sacerdoti avrebbe più senso e più valore però bisogna passare dalla celebrazione alla vita il pane spezzato durante la celebrazione deve diventare una vita spezzata da parte nostra il fate questo in memoria di me deve diventare anche un trasformarsi in pane spezzato per il popolo di dio che siamo chiamati a servire e quindi è importante che dalla relazione intima con gesù noi impariamo l'arte dice ancora il vescovo dell'umiltà della dolcezza della magnanimità che sono i fondamentali attributi del nostro ministero ma anche alimentare quella lampada d'amore che la causa prima potremmo dire che ci ha permesso di dire al signore il nostro sì il nostro eccomi il vescovo poi afferma in conclusione di questa lettera che la vocazione sacerdotale è una chiamata personale intima ma anche una chiamata in comunità e ci dice che questa comunione ha un fondamento cristologico ecclesiologico e pneumatologico ovvero l'amore trinitario e va sempre edificata costantemente e continuamente cosa vuol dire concretamente camminare in questa direzione innanzitutto il vescovo ci dice che la comunione la spiritualità di comunione deve essere quel punto di riferimento per tutti noi presbiteri noi siamo presbiteri non per noi stessi ma perché il signore ci chiama in una comunità per servire la comunità e quindi in comunione sia con i confratelli che con il popolo di dio quindi siamo eletti scelti dal signore per servire vivere quindi la comunione sacerdotale tra di noi e tra le comunità che i sacerdoti servono e l'obiettivo la spinta l'indicazione pastorale che il nostro vescovo ci dà questa comunione non è fondata sulla simpatia reciproca ma è una comunione che si fonda sulla comunione trinitaria dio è unettrino è comunione di persone che sono unica natura quella divina e quindi noi siamo molti ma siamo chiamati a diventare uno e il signore stesso che ha pregato per noi perché possiamo essere una cosa sola come lui e il padre è una cosa sola quindi questa comunione d'amore perenne che è nella santissima trinità deve diventare ispiratrice della comunione ecclesiale quindi la comunione va sempre edificata costantemente dice il vescovo continuamente a partire dalla contemplazione della comunione trinitaria attualizzando e traducendo la comunione trinitaria nella comunione fra noi a volte difficile a volte non sempre agevole non sempre facile però è la via la strada che il signore ci ha indicato questa circolarità dell'amore trinitario dice il vescovo sia ispiratrice e modello delle nostre azioni e questo non solo rispetto al presbiterio e rispetto al popolo di dio ma anche rispetto al vescovo noi siamo chiamati in prima persona ad essere in comunione con il nostro vescovo perché noi siamo i primi collaboratori del vescovo come presbiteri e quindi non possiamo non essere in comunione con il nostro vescovo noi siamo la presenza della pastoralità della sollicitudine del vescovo nelle comunità cioè il volto della pastoralità del vescovo nelle nostre comunità quindi siamo i suoi collaboratori e dobbiamo essere in piena comunione con lui in piena comunione tra noi nel presbiterio al servizio del popolo di dio come abbiamo ascoltato poc'anzi citando le parole del vescovo e il vescovo ad un certo punto richiama anche alcune parole di papa francesco che riferiscono come il sacerdote innanzitutto uomo della comunione che vive la propria solitudine sto leggendo le parole del papa che vive la propria solitudine nell'intimità con cristo per edificare la comunione i sacerdoti sono dunque coloro che operano con coristi dice papa francesco non solisti coristi e il nostro vescovo cita le parole del papa per rafforzare a valorare quello che ci propone in questa sua lettera pastorale conclude la lettera con l'invocazione a maria ci affida al conforto della madre celeste e nella gioia del ministero e nelle nostre sconfitte nelle nostre fragilità ci invita a invocarla con le parole di san bernardo di chiaravalle guarda la stella invoca maria questo diceva san bernardo di chiaravalle per alzare lo sguardo appunto su maria stella del nostro sacerdozio e per invocarla come compagna del nostro cammino grazie padre roberto per essere stato con noi grazie a voi grazie di questo spazio che ci è stato dato per parlare della lettera del vescovo e farla conoscere a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che saluto con cordialità anch'io saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e a presto da denise arceri avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa